Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Mystic, mi chiede di parlare del film del 2015 di Rufus Wainwright, The Fog, Nebbia Assassina, remake del filmone di Carpenter, la storia è più o meno la stessa a livello di soggetto, si sta facendo il centenario di questa isola, 8 di pescatori, però noi sappiamo che 100 anni prima praticamente una nave è affondata proprio per colpa degli abitanti dell'isola, quindi arriva questa nebbia, dentro queste nebbia c'è i fantasmi che vogliono defragrare tutti quelli che ne hanno rotto il cazzo. Se nel film di Carpenter questo soggettino funzionava la stragrande inquietudine, la forza della messa in scena, quella possente idea di un racconto epico e di paura, qui si trasforma in una teen comedy che vorrebbe far paura solo a se stessi, si mostrano i fantasmi come se fosse Robby Wankenobel, come se si fosse in Ghostbusters 2, senza alcun ritegno, tutta la paura viene a morire, la regia di Visto Wainwright è veramente la vergogna, tutti gli attori sarebbero da denunciare e il film è veramente inguardabile. Uno dei peggiori remake della storia del cinema The Fog non esiste in questo film, tutto quello che era la malsanità, tutto quello che era l'atto politico, tutto quello che era l'atto sociale, tutto quello che era The Fog qui in realtà è ridotto semplicemente a quattro stronzoli che passano a mezzo alla nebbia e fanno paurina, con un finale veramente delirante e con tutto quello che faceva grande nel film di Carpenter, l'attesa, il silenzio, la critica alla religione, la critica al capitale, la critica ai soldi, un'altra volta e mezzo, qui diventa semplicemente l'ennesima idea per fare la storiella d'amore fra due bimbetti di 17 anni, non si può assolutamente guardare, non c'è un personaggio che rimanga in testa, la musica è insopportabile, è un film proprio di quelli che andrebbero vietati per legge, quando ti entra il giramento di cazzo proprio per qualcosa come che è tempo buttato, vita buttata, porca puttana, andai al cinema, un'ora e mezzo di questa merda, a me mi è sembrata 66 ore, per un film che veramente più che far paura fa paura al fatto che l'abbiano fatto, un terrore di merda che non si può guardare, io non so più cosa dirvi, non c'è una scena, non c'è nulla, quando arriva la nebbia è fatto il Vic 20, ripeto, i fantasmi fanno paura solo a se stessi e in tutto questo la vendetta, l'idea, ripeto, un'altra volta di essere noi colpevoli va a puttane semplicemente per raccontare una favoletta del cazzo, dove c'è alla base la storiella d'amore di merda, non se ne puole veramente più, non se ne puole più e questo remake via è veramente una zozzeria a 20 anni quasi, meno male non hanno mai avuto successo, meno male non hanno mai pensato di farne un 2, un 3, un 13, perché qui veramente siamo a livelli che Carpenter giustamente ci scrive produttore esecutivo e si piglia soldi, gli importa anche una sega, tanto uno lo fa non lavorare, ma questo film vive veramente l'indegna, l'indegna peggiore rifascimento dell'universo, perché questo The Fog veramente che viene da un grande film di Carpenter, super sottovalutato, ma che era veramente un gotico allucinante, pieno zeppoli di cose da dire, questo invece diventa da un gotico allucinante, pieno zeppoli di cose da dire, un filmetto teen di merda che non ha un cazzo da dire, fate un po' in ovoio, il link qui sotto ce lo metto, da sul Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il pulsante, grazie per donare direttamente su YouTube, appunto come ho detto, seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio a giro per l'Italia e soprattutto, state alla larga da questo The Fog Nebbe Assassina, quello del 2005-2006, eh, dico non il capolavoro di Carpenter, perché siamo di fronte veramente a una sozzeria di quelle indegne.